Ed eccola la firma congiunta di regione e provincia sul protocollo del lago di Fimon, sottoscritto proprio in riva al lago. Un passo in avanti per poter meglio salvaguardare il delicato ecosistema dell'area facendo un passo indietro. I laghi infatti sono sempre stati competenza delle province ma la riforma del rio l'ha affidata alle regioni. In attesa di un riordino normativo per i prossimi tre anni la regione Veneto riassegna alla provincia di Vicenza anche la competenza degli interventi straordinari, quelli che vanno pianificati a lungo termine. Una vera e propria novità auspicata trasversalmente da tutte le forze politiche vicentine. Sì è un protocollo che è una novità assoluta perché passiamo da una periodicità ridotta sulla gestione nei rapporti appunto con la regione del lago di Fimon per gli interventi di manutenzione a un periodo molto più lungo di tre anni con dei fondi anche messi a disposizione della regione Veneto. Quindi importante una collaborazione che porterà ad un tavolo tecnico che mira a salvaguardare questo posto molto amato dai vicentini, il luogo di meta di incontro spesso e soprattutto nei fine settimana ma anche durante gli altri giorni è ben frequentato e quindi vogliamo valorizzarlo al massimo e lo faremo con una serie di attività. Sono precisamente 50 mila euro all'anno i fondi destinati dalla regione, una cifra oggettivamente bassa che però potrà essere incrementata sulla base dei piani che verranno presentati alla commissione tecnica appositamente costituita. Quali sono i progetti che finalmente ora potranno prendere vita? L'opzione parchi acquatici sembra essere la prima ad essere depennata. La provincia in realtà ha già delle idee però attendiamo, oggi abbiamo fatto la firma, attendiamo il primo incontro di questo tavolo tecnico poi vediamo che indirizzo verrà preso, l'ambiente lo vediamo, è caratterizzato proprio dal suo essere naturale e quindi poco antropizzato, anzi per nulla antropizzato, credo sia da preservare proprio la naturalità di questo sito anche in considerazione del fatto che sono sempre meno i siti caratterizzati proprio da questa caratteristica di naturalità che credo il cittadino vada a cercare.